Ruba prodotti per la casa da un noto grande magazzino di Corso Italia e una volta scoperto dall'addetto alla sorveglianza tenta la fuga aggredendo il vigilante. L'intervento della polizia locale ha riportato l'ordine ma con notevoli difficoltà vista l'aggressività del ladro. E' successo nel tardo pomeriggio di lunedì 8 aprile. Il responsabile è un cittadino georgiano di 33 anni che grazie a una borsa autoprodotta e artigenalmente schermata ha il fine esclusivo di eludere il sistema di allarme dei punti vendita in cui l'uomo metteva a segno i furti nonché alcuni strumenti utilizzati per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio aveva nascosto nella borsa merce per un valore di centinaia di euro. Il 33enne era osservato speciale di un addetto alla sicurezza che dopo averlo visto trafficare con la sua borsa tra gli scaffali del negozio lo ha seguito fino all'esterno per poi fermarlo. Il georgiano ha reagito dando in escandescenze aggredendo con violenza la gente alla sicurezza ma personale del reparto motorizzato della polizia locale chiamati da alcuni passanti sono subito intervenuti in difesa del vigilante per bloccare l'aggressore che opponendo una strenua resistenza è stato infine accompagnato alla caserma della polizia locale per le formalità di rito. L'uomo è stato arrestato per il presunto reato di rapina impropria e è stato poi condotto al carcere di via Coroneo.